18 luglio. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Marco 10,47. Il grido. In questo versetto del Vangelo di Marco, notiamo un cieco di nome Bartimeo, il quale essendo cieco era mendicante, un uomo che dipendeva da chi lo accompagnava al Tempio o in luoghi di passaggio, dove poteva mendicare per la sua sopravvivenza. Mentre era intento a mendicare, udì che stava passando Gesù ed iniziò a gridare, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. In questa storia notiamo subito che a quest'uomo gli viene detto di tacere, ma lui invece grida più forte. Nel suo bisogno non si scoraggia, non dà ascolto a coloro che volevano che tacesse. La sua fede non era morta. Sapeva che Gesù, quale figlio di Dio, poteva risolvere il problema della sua infermità. Gesù ascoltò questo grido carico di disperazione, che allo stesso tempo era un grido pieno di fiducia, carico di speranza. La sua fede aveva raggiunto con il suo grido Gesù. Gesù lo chiamò e gli disse, che vuoi che io ti faccia? E Bartimeo, che io recuperi la vista? Gesù lo guarì istantaneamente. Grida Gesù oggi dal profondo del tuo cuore. Rivolgiti a lui con fede. Egli udrà e ti verrà in aiuto.